Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovissimo episodio di The Sims. Nell'ultimo episodio è arrivato il bebè, il piccolo Tommy e ho spostato la culla, l'ho portata giù in salotto perché altrimenti dovevano continuare su e giù dalle scale e diventava un po' noioso, quindi ho portato la culla nel salotto. Ho giocato un pochettino, però non tantissimo, forse sarà passato uno, un giorno, due giorni nel gioco e quindi insomma non è cambiato più di tanto. Nel sondaggio dell'ultimo episodio ha vinto una nuova gravidanza e quindi in questo video proveremo di nuovo a far restare incinta Jessica. Anche se Tommy è piccolino, è appena nato, anche lui è nato da pochi giorni, però ha stravinto alla grande quella risposta, quindi in tanti volete vedere una nuova gravidanza. E quindi in questo video ci proveremo. È lunedì, è lunedì sera, domani entrambi vanno al lavoro, se non ricordo male, forse Jessica no, comunque non fa niente. Ho sistemato un po' la cameretta o meglio sono andata a cambiare i colori della cameretta, la faccio vedere velocemente, intanto c'è Mark che sta andando a dormire perché è stanchissimo. Ho messo il tappeto azzurro, il lenzuolo azzurro, il tappetino con i giochini azzurro, il biberon azzurro, insomma tante tante cosine tutte azzurre. E anche la parete l'ho fatta di questo color lilla con i pinguini, che mi piace molto. L'altra stanza invece è ancora da sistemare, però fa niente con calma, facciamo tutto. Dov'è l'appartamento? Ok. Tra l'altro nell'ultimo episodio mi avete scritto che è arrivato un maschietto perché Jessica non ha mangiato le fragole, ma ha mangiato la torta alle fragole. Io ragazzi ho smanettato tantissimo per trovare le fragole e non le trovavo da nessuna parte. Poi mi avete scritto che sono da coltivare, si possono coltivare nell'orto, però visto che in città non c'è la possibilità di avere l'orto, sono andata a posizionare, togliamo il muro, un vaso. Nel frattempo c'è solo un po' di piatti in giro come sempre, ma non facciamoci caso. Giochiamo. Allora, andiamo dal piccolo da Tommy, che è veramente dolcissimo e bellissimo. Fai una faccia buffa e vediamo se ha bisogno di... di cosa ha bisogno. È stanchino, quindi dobbiamo farlo dormire. Culla. Vediamo. Nuovo neonato. Per il nuovo neonato non c'è momento della vita di un simo più gioioso dell'arrivo di un neonato. Arredamento bello, grazie. E di tendenza, Jessica sta diventando di tendenza. Continuiamo così nel mondo dei social media. Ah, andate a dormire. Va bene, sono riuscita a leggere, ok. Ma il piccolo non sta dormendo. No, Tommy ha sveglio. Caro, no. Però non piange, quindi lasciamolo così. Sta guardando il soffitto, è tranquillo, quindi lasciamolo pure stare. Sono le otto e un quarto, in realtà non è neanche tardissimo, ma sono tutti stanchi. Mark, dov'è? No, forse Mark si è svegliato. Eccolo qua. Ed è fuori. Ok, sta cucinando. Sta per andare a cucinare. Ok. E... Dopo proviamo, allora, facciamo una cosa. Ah, sei già svegliata? Ok. Proviamo una cosa, proviamo già. Fai fichi fichi con Jessica. Anzi no, cerca di avere un figlio con Jessica. Ok. Ok, vediamo. Mico. No, non abbiamo voglia adesso, mi dispiace. E tra l'altro non so se ci avete fatto caso, ma Jessica è già diventata più magra dopo il parto. Sono andata ad utilizzare un piccolo trucchetto, ovvero sono andata semplicemente nella gestione dell'unità familiare e ho sistemato il suo fisico velocemente in questo modo, perché non avevo voglia, insomma, di mandarla in palestra per accelerare un po' i tempi. Quindi ho fatto in questo modo. Intanto Tommy è tranquillo, giù di sotto. Ok. Eccolo qua. È bravissimo. Piange pochissimo. È veramente molto molto bravo. Però visto che ha un po' fame, allatta. Dopo che, insomma, hanno fatto quello che devono fare. In tantissimi, tra l'altro, mi scrivete spessissimo sotto tutti gli episodi di farvi vedere il mio materiale personalizzato. Come scarico il materiale personalizzato. Però alla fine nei sondaggi vince sempre l'altra risposta e quindi anche questa volta non ho modo di farvelo vedere. Però magari nel prossimo video vi faccio vedere, insomma, come scarico il materiale personalizzato. Se riesco, magari qua sotto nell'info box, già da questo episodio, vi metto il mio materiale personalizzato. Magari seleziono tutto in categorie e se riesco in questo episodio vi metto la categoria abbigliamento. Tutto l'abbigliamento che ho per quanto riguarda appunto il materiale personalizzato. E così potete scaricarlo, sempre che riesco a caricarlo su internet. Fai il test di gravidanza, se puoi. Non ho capito. Sì, prendi l'acqua, ok. Ah no. No, ok, ok. Quindi niente, rifacciamo. Ok. Dobbiamo rifarlo perché evidentemente è scesa per dare da mangiare a Tommy e quindi si è annullata l'interazione. Ok, si sta facendo un bagno. Forse dovrei togliere l'autonomia, però mi piace anche vedere cosa decidono di fare da soli. Sveglia. Sveglia. Ok. E anche il vasino l'ho messo azzurro, verde acqua. È bellissimo, non vedo l'ora di insegnargli a fare la pipì nel vasino. Per quanto riguarda il lavoro di Jessica, sta andando molto molto bene perché ha già quasi 30.000 follower. E quindi diciamo che sta andando parecchio, parecchio bene. E invece il lavoro di Mark, anche lui, dai, non male anche lui. Esso è un vice responsabile. Poi deve compilare i rapporti al PC. Ah no, l'ha già fatto, completato, perfetto. E che altro volevo dirvi? Magari fatemi sapere se vi può interessare un'altra storia, creare un'altra famiglia da collocare qua nella città. Magari creare anche la sorella di Jessica, il fratello di Jessica e farlo arrivare in città. Così magari la famiglia diventa, si allarga un pochettino di più. Fatemi sapere se questa idea vi può piacere o se magari preferite vedere una nuova famiglia totalmente diversa che non c'entra niente con questa, farli diventare amici o se preferite la parentina. Non lo so. Consulto nei commenti, come sempre consigliatemi perché ascolto sempre tutti i vostri consigli e mi piace interagire con voi e far evolvere la storia anche attraverso i vostri consigli. Quindi adesso hanno consumato e vediamo se può fare il test di gravidanza. Vediamo. Eccolo qua, fai un test di gravidanza. Vediamo. Yeah, di nuovo. Si mangia per due. Congratulazioni Jessica in dolce attesa. Ci sarà un nuovo arrivo nell'unità familiare. Bene, bene. Allora, innanzitutto abbiamo ancora il piccolo Tommy qua nella culla ed è bravissimo. Ancora troppo, troppo bravo. Però adesso vieni in gioco colarlo un po'. Fai una faccia buffa. Parla. Altre scelte. Fai passare di età. Per far passare di età aspettiamo un attimino. Ora non ricordo quanto tempo, quanti giorni nel gioco devono passare per far crescere il bambino. o se dobbiamo per forza farlo passare di età noi, non mi ricordo. Come sempre, se lo sapete, scrivetemi qua nei commenti. Se no, lo cercherò su internet dopo. Non mi ricordo proprio. Ah, che bello, è bellissimo. Culla, coccola, cambia il pannolino. Aspetta, hai bisogno di cambiare il pannolino. Ha fame? Aspettate, ma lui è... Ah, ok. Ha fame. Quindi. Nutri a latta. E poi facciamolo dormire. Quindi, dondola. Ma non ha mangiato abbastanza, ok? Brava. Manca poco al compleanno di Tommaso. Quindi fra pochissimo Tommy compie gli anni. Vediamo se mi dicono quando. No, adesso è ancora troppo piccolo. E non c'è modo di vedere niente. Ah, no, ma Tommy è tutto ok. Allora è Jessica che ha fame. Ok, ero andata in confusione. Lui non dorme mai. Mai. È sempre sveglio, è sempre pimpante, ma sempre molto molto buono. Mark? Dov'è? Ah, che bravi. Stanno mangiando fuori. Hanno una bellissima terrazza che si affaccia sulla città e la vista da qui è magnifica. Però, questo potete anche buttarlo, eh. Ripulisci. No, ma stanno mangiando... Ah, ok. L'hanno preparato di nuovo questo, però buttatelo. Grazie. E sono le due di notte. Oh mio Dio, è tardissimo. È tardissimo. Allora, Jessica, ripulisci e questo metti nell'inventario. Tommy, è tutto a posto, sta benissimo. Perfetto. E vediamo cos'è che doveva fare per il lavoro, Jessica, se riusciamo ancora. Registra un'inventiva al computer mentre sei furente. È tutt'altro che furente. Lui, guardate come cammina. Si deve andare in bagno, lo so. Vai subito. Vai, 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 vai. No, lui è super ordinato perché, guardate, anche se se la sta facendo sotto, sta lavando i piatti. A quanti uomini capita di fare questa cosa? A quanti? Dai, vai, poverino, cammina. Povero. Bravo. Jessica sta dormendo? Ok. Va bene. E il piccolo è sveglio. D'accordo. Acceleriamo un po' i tempi e arriviamo a martedì. Tengo sotto controllo Tommy, più che altro. Che non dorme tutta notte, praticamente. No, vabbè. È sempre sveglio. Cosa sta facendo? Mamma, che bello che è. C'è anche l'elefantino qua, non l'avevo visto. Chiudi qua gli occhietti. Ma non si può cambiare ancora l'abito, il vestitino? No. No, è ancora troppo piccolo. Jessica, tutto a posto. Perfetto. Sta andando tutto gonfio e vele. E lei è incinta. Dobbiamo assolutamente ricordarci anche di questa gravidanza, mi l'ero già dimenticata. È incinta di nuovo. Ebbene sì, di nuovo nel giro di quanti giorni, pochissimi. Jessica è di nuovo incinta. Oggi è martedì. Lui lavora, Margaret lavora, mentre Jessica... No. È a casa. Ottimo. Tra l'altro lei prende tantissimo, perché prende il 97 simoleon al giorno, all'ora. È veramente tantissimo. Però mancava un giorno al compleanno di Tommy, quindi il compleanno di Tommy è mercoledì. Eh sì. Mi sa di sì. Oh ma vabbè. Mi è già cresciuta la pancia. In quanto tempo? In una notte. Guardate. Ha già la pancina. Allora. Sono alle 8 del mattino. Si mangia per 2. È già al secondo trimestre di gravidanza. E tra l'altro in questi giorni, ormai in realtà ci sono ancora pochi giorni, per avere, per sfidare i veggiesimi, o meglio, per farsi dare i fagioli. Completa la collezione parlando con i veggiesimi, facendoti dare dei fagioli magici in base al loro stato emotivo attuale. Mancano 5 giorni e un'ora per poter, insomma, farsi dare i fagioli. E poi i sim diventano verdi. Ci sono un po' di... hanno dei requisiti leggermente diversi, dei bisogni diversi. Oddio che sporco. Pulisci con vigore, assolutamente sì. E asciuga come una furia. Dopo magari ci gioco da sola. Praticamente devo trovare questi sim sparsi per la città. Sono dei sim verdi. E devono darci, insomma, un fagiolino magico. E ho già chiesto... ho già parlato con Jasmine che mi ha dato l'albero. E infatti l'albero è... è questo. E poi qua dobbiamo andare a piantare tutti in questi... in questi buchini. Dobbiamo andare a piantare tutti i fagiolini che ci danno. Però non so se riesco a farlo. Anche perché se faccio questo il gioco va avanti, la pancia cresce e non riesco a registrare in diretta con voi. Quindi ci devo ancora pensare cosa fare se giocare insieme a voi, se giocare e andare avanti con l'episodio. Ma qua si sta rompendo tutto. Sostituisci. Tanto abbiamo soldi. Sì, sostituisci. Ok. Dagli un bacio. Ecco, bravi. Bravi. Piange, finalmente si fa sentire. Che cos'hai? Che cos'hai? Calma. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa? Ah, quella è già passata. Ok, sì, gli è già passata. Facciamo un po' di conversazione con Tommy. Fatemi sapere se il nome Tommy vi piace. E magari scrivetemi qua sotto nei commenti i nomi che mi consigliate sia maschio che femmina per il futuro bebè. Così magari prendo anche un po' spunto da voi. Cos'hai? Continuo a piangere adesso. Non ha dormito tutta notte, ovviamente. E si fa sentire adesso. Niente. Cosa c'è? Nutri con il biberon. Vediamo. Magari ha fame. Sì, direi proprio di sì. Aveva fame. Questa culla invece non si può utilizzare per mettere il bebè. Ma è soltanto di bellezza praticamente. Però la lascio perché mi piace. Ok, aveva fame. Aveva semplicemente fame. Perfetto. Jessica, cosa devi fare? Registri un'invittiva al computer mentre sei furente. Sei furente, non è furente lei adesso. Brava, mangia. Allora, vediamo un po' cosa puoi fare su internet. Social network. Trasmetti lo stato. Poi, vediamo. Raggiungi la palestra per essere energica. Quasi, quasi. Ricevi una promozione. Balla al ritmo della musica dello stereo. Dopo aver trasmesso l'informazione fino ai luoghi più remoti del globo, Jessica ha guadagnato 8.000 follower. E ora ne è in tutto quasi 37.000 praticamente. Molto, molto bene. Per ricevere la promozione deve superare i 100.000 follower. Quindi ce n'è un bel po'. Ci vorrà un bel po'. Per guadagnare follower usa il computer. Sì, ok. Ci vorrà veramente un bel po' di tempo per raggiungere i 100.000 follower. Quindi per raggiudicarsi la nuova promozione. Stavo pensando quasi quasi di mandare Jessica in un quartiere e cercare, insomma, i vege sim. Andiamo nel... Da Starbucks. Eccoci arrivati da Starbucks. Non vi preoccupate che Tommy è andato all'asilo nido. Quando in casa non c'è nessuno, il bimbo in automatico viene portato all'asilo nido. E rientra a casa una volta che qualcuno rientra a casa. Comunque, questo appunto il bar è Starbucks. L'ho scaricato anche questo su internet, anche questo praticamente materiale personalizzato. E ve lo faccio vedere velocemente. È fatto molto, molto bene. Guardate. Mi piace molto. C'è anche il parcheggio con qualche macchina e i tavolini all'aperto. Questo all'interno con le vetrate è proprio in stile Starbucks. Ci sono dei tavolini. Qua dietro ci sono i bagni. Qua ci sono i bagni. E qua c'è proprio il menu con il logo di Starbucks. È fatto veramente molto, molto bene. E vediamo, insomma, se c'è qualcuno più che altro. Perché mi sa che non c'è nessuno. Perché in questo quartiere non c'è veramente un'anima viva. Perché non c'è nessuna unità familiare in questo quartiere al momento. Non ci avevo pensato. Vabbè dai, ve l'ho fatto vedere com'è. E poi, col tempo, voglio andare in tutti gli altri lotti a mettere dei ristoranti, dei bar, dei parchi. Insomma, un po' di cose. Però ancora non sono riuscita a farlo. Ok dai, almeno qua ci sono un po' di persone. Ma questa? Che problemi ha? Vediamo se c'è qualcuno. Quel che vedessimo. Qua nei dintorni. C'è qualcuno di verde qui? No, non c'è nessuno. Sono introvabili. Dai la mancia. Ne diamo la mancia dai 20 simoleon. Non male. Brava. E adesso vieni in palestra. Fai un po' di tapirulane. Corri con il petto gonfio insieme. Vediamo. Questa è la palestra della città. Che si trova nei quartieri alti. Sopra c'è anche la zona relax, diciamo, con il campo di basket. Molto bello anche l'esterno qua. Che bella vista. Sul lago, sul mare, non lo so. E invece giù c'è la palestra. Ci sono i tapirulane. Queste panche per fare i pesi. Stanno facendo tapirulane. Eccola qua. Sì, sta facendo tapirulane. Vediamo. Vediamo se si vede la pancina. Sì, si vede un po'. Brava. Fai un po' di attività fisica. Condividi la grande notizia. Ah, adesso è arrivata questa interazione. Condividi la grande notizia. Festeggia il compleanno di Mark organizzando una festa indimenticabile. Eh, beh sì, assolutamente. Ma è oggi il compleanno di Mark? Alt. Festeggia il compleanno di Mark organizzando una festa indimenticabile. Eh sì, compie gli anni proprio oggi. Quindi, facciamo una cosa. Questo episodio termina qui. E nel prossimo episodio organizziamo insieme il compleanno di Mark. Festeggiamo tutti insieme. Perché passa da giovane adulto ad adulto. E spero che questo episodio, come sempre, vi sia piaciuto. E vi ricordo di guardare sempre alla fine. Perché alla fine di ogni episodio c'è un sondaggio dove potete rispondere. E vi mando un grosso bacione. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Ciao! Ciao!